Musica Ridurre i costi della politica, riqualificando la spesa, finalizzandola allo stretto necessario. E' questo in sintesi il senso del documento presentato oggi pomeriggio nella prima riunione di giunta a Palazzo dei Priori. Il sindaco Romizzi ne ha illustrato le linee di indirizzo. Tra i primi provvedimenti, la riduzione del numero degli addetti esterni all'unità di staff e supporto all'attività del sindaco e della giunta, l'assegnazione di un unico ufficio agli assessori e la dismissione dall'uso di ufficio di segreteria del vice sindaco della Sala Gialla, restituendola così a spazio istituzionale. Altre misure riguardano la riduzione del numero delle auto di rappresentanza del comune a una sola unità, con diminuzione del numero degli autisti addetti che saranno adibiti ad altro servizio nel rispetto della qualifica e delle norme contrattuali. Infine, l'abolizione dell'acquisto dei quotidiani per gli organi politici.